Santeramo e Altamura sono i paesi della Murgia che più hanno risentito di questa ondata di freddo che ha portato gelo e neve in Puglia. Tre giorni di neve copiosa hanno isolato in particolare Santeramo, sepolta sotto quasi due metri di neve, masserie isolate con trade completamente nascoste. Una vera e propria emergenza che si è tradotta in paura quando persino l'acqua ha cominciato a faticare ad arrivare nelle abitazioni. Scaffali dei supermercati presi d'assalto, mancano pane, legumi, uova. Ma l'emergenza più grave riguarda la guardia medica che in questi giorni ha quadruplicato il lavoro. Manca il personale, la situazione sembra collassare. Ho la febbre a 40 e sto tornando al lavoro, devo dare il cambio alla collega in servizio ormai da 72 ore ininterrottamente, spiega uno dei medici. Siamo in quattro a darci il cambio, siamo state lasciate sole, denuncia. Il primo cittadino, Michele D'Ambrosio, tramite la prefettura, aveva richiesto l'intervento straordinario dell'esercito. Iniziativa sollecitata al prefetto di Bari dal presidente della regione, Michele Emiliano, accusato dal sindaco di aver abbandonato la comunità di Santeramo. Su sua indicazione, intanto, Acquedotto Pugliese comunica di aver inviato proprio a Santeramo 1.400 sacchetti da 5 litri ciascuno di acqua potabile, la cui distribuzione verrà curata dal comando dei vigili urbani. La decisione serve a far fronte all'emergenza in corso dovuta alle eccezionali condizioni meteorologiche e per sopperire in parte ai disagi dei cittadini.